L'amiante ha ancora un'emergenza, 34 milioni di tonnellate presenti in Italia, 4 mila le vittime ogni anno. A fornire questi dati preoccupanti il Ministro dell'Ambiente Costa e sulla possibile presenza di amianto lungo il percorso della TAV, anche questo è un'altra allarme, allora siamo andati a Casale Monferrato dove a più di 30 anni dalla chiusura della fabbrica si continua a morire l'inviato Massimo Mignanelli. Questo è quello che rimane della Ethernet, sono i pezzi speciali che facevano, centinaia di donne di cui una gran parte, la maggioranza purtroppo non ci sono più, sono morte di aspettosi, di tumore al polmone o purtroppo di mesotelioma. Come ricorda questa fabbrica, questo posto negli anni in cui è riproduzione? Il grigio, quel biancastro tendente al grigio che è polvere di amianto e di cemento. Bruno Pesce, 77 anni da 40, è impegnato nella lotta all'amianto. La vita di Casale Monferrato è legata alla Ethernet che dava lavoro a 3500 operai. Più di 1000 dipendenti e ormai sono morti e ben più di 1000 cittadini, cioè di persone che pur non avendo mai messo piede all'Ethernet hanno subito un'esposizione ambientale. Lo stabilimento è definitivamente chiuso dal 1986, ma a tanti anni di distanza. Casale Monferrato si continua a morire ancora per le stesse patologie. Si ammalano quelli che erano bambini nel tempo della lavorazione. È un'incubazione che può anche durare 50 anni, quindi siamo tutti a rischio e siamo anche consapevoli di questo. L'impegno di questa città nella bonifica di un territorio fortemente inquinato ha reso Casale Monferrato simbolo di tenacia e resilienza. Quel parco nato anni fa sopra la fabbrica dei Veleni e chiamato Ethernet rappresenta la rinascita e la vivibilità, ma c'è ancora da lavorare. Per completare la bonifica serve ancora alcuni anni di lavoro, soprattutto nel fronte privato dove i cittadini devono impegnarsi nel bonificare i loro tetti.